... Alfredo Di Orio, responsabile della protezione civile Nuovo Domani, una nuova avventura, un passo avanti, un qualcosa di veramente nuovo che in realtà è una nuova sfida? Sì, in effetti noi abbiamo avuto già un'esperienza circa 15 anni fa quando avevamo aperto il progetto di mare sicuro avevamo già 5 autombulanze che poi ovviamente si sono superate nel tempo, non erano più adatte e le abbiamo dovute ovviamente togliere e poi da due anni con tutti i volontari stiamo lavorando per arrivare a questo nuovissimo prodotto che è un'autoambulanza di ultima generazione. Non è stato facile arrivare a questo punto perché questa è un'autoambulanza che costa circa 70.000 euro e abbiamo potuto arrivare a questo perché siamo riusciti con il lavoro, con qualche piccola donazione eccetera ad arrivare al primo finanziamento che erano 20.000 euro. Dopodiché abbiamo avuto l'approvazione delle banche per poter accendere un leasing e quindi abbiamo acceso un leasing e questo ci ha permesso ovviamente dell'acquisto completo dell'autoambulanza. Abbiamo visto che è dotata di ogni dispositivo moderno collegato con le disposizioni della ASLE e quindi è all'avanguardia. Dunque, un'ambulanza per farci cosa? Allora, l'autoambulanza noi nel momento in cui abbiamo pensato di acquistarla, di attrezzarla eccetera eccetera avevamo subito pensato di poterla utilizzare prevalentemente per il nord del nostro comune perché il nord del nostro comune credo che sia molto utilissima soprattutto con la presenza dell'Aurelia e soprattutto con la presenza di zone come Passo Scuro, Traiata, Traiatella, Testa di Lepre eccetera eccetera che ovviamente hanno bisogno, secondo il nostro punto di vista, hanno bisogno che ci sia un'ambulanza fissa H24. E dove sarà posizionata? Probabilmente, anzi quasi sicuramente, al nuovo presidio di Palidoro che è stato inaugurato mi sembra l'altro anno, mi sembra che sia stato inaugurato e penso che sarà lì il presidio specifico dove sarà questa autoambulanza. Avete già un'idea dei turni, di quando sarà a disposizione della collettività? Allora, noi stiamo finendo le ultime pratiche burocratiche che purtroppo in Italia sono sempre un po' lentine ma noi pensiamo che possa iniziare il suo lavoro diciamo intorno al 20 di gennaio, alla fine di gennaio. I turni saranno 12 ore per 12 ore, quindi 24 ore su 24 e in questi turni saranno impiegati sia un infermiere, sia due soccorritori, l'autista e il medico a disposizione. Il medico nel caso in cui ci sia necessità sarà a disposizione sull'autoambulanza. Se non sbaglio molti dei vostri ragazzi si sono formati proprio in tal senso ultimamente? Sì, abbiamo formato altri ragazzi proprio per avere i turni eccetera perché già parecchi ne avevamo già formati con BLS, BLSD, trasporto politraumatizzato eccetera eccetera. Ultimamente, la settimana passata, abbiamo concluso un altro corso che ha praticamente abilitato altri 15 volontari e volontarie a questo tipo di attività per poter lavorare sull'autoambulanza. Ultima domanda, come si farà a chiamare l'ambulanza? Tramite il 118, tramite un numero dedicato, tramite il comune? Allora, l'autoambulanza questa, una volta fatto l'accordo con l'Ares 118 si chiama attraverso il 118 perché poi avremo noi a bordo la radio e il telefono del 118 e conseguentemente chiamando l'autoambulanza loro ti attivano immediatamente insomma. Poi ci sarà anche la comunicazione radiofonica su tutto il territorio con la nostra sala radio con un'altra frequenza perché l'autoambulanza potrebbe avere bisogno della macchina antincendio potrebbe avere bisogno del carro gruppo, potrebbe avere bisogno di altro sostegno come posso dire un aiuto per risolvere quel problema in quel momento e quindi conseguentemente sarà collegata anche con la sala operativa in maniera tale di dare un servizio il più largo possibile. Quindi un sistema integrato con la protezione civile, in bocca al lupo. Grazie, grazie tante.